oh tu gozzi vaffan mocca le stramurte da mamma se tu hai la cgaun che ti paga la connessione per me vaffan gula sort ven uscè sta rompendo i coglioni da due ore infatti ragazzi li dovete bannare tutti li dovete bannare tutti solo io devo poter parlare sarà scazzi grazie mille per la donazione